squidi il modello squidi ha trovato finalmente il lavoro che fa per lui posare mentre gli artisti di atlantide lo dipingono cioè dipingono immagini di lui intendo no non lo dipingono letteralmente vabbè sarebbe stupido sì anche questo commento effettivamente lo era squidi un bel tipo ora che ha scoperto la sala dell'arte di atlantide ha concesso agli artisti l'onore di fargli il ritratto spongevo più coi balfi però ok un altro livello uguale al precedente pararsi a ma questo giro proprio ok mozzafiato ma più semplice di quanto pensassi no complimenti squiliberto mi dovrebbe vedere squiliberto ma che mica è tanto facile scuola madonna vabbè mister crepe però no dai nel nome dell'arte spongebob non è qui per importunarmi meno male io intanto vado letteralmente il più veloce che posso però a livello di tempo questo potrebbe essere più difficile degli altri soprattutto se non hai velocità nelle dita proprio potrebbe essere un pelota un pelotosto ok nel nome dell'arte io ti punirò no qua ho sbagliato io eh c'hai ragione bello questo qua vestito da gladiatore ma non è che sbagliando poi cambia costume lui anche perché anche prima quando abbiamo sbagliato aveva cambiato letteralmente vestito o comunque posa generale magari sbaglio bella sta cosa da gladiatore e non c'entra assolutamente vabbè oddio questo c'entra leggermente ma non proprio nel nome dell'arte ora saliamo di difficoltà aggiungiamo due tasti in più adesso cos'è far re nettuno però con la barba squiddy non sta male eh non sta malissimo con la barba squiddy no ho sbagliato scusami mi sono distratto guardandoti spero che questo livello non contino gli errori effettivi ma il fatto che ogni volta siamo sempre al massimo una vera ispirazione spero che conti questo conta il risultato non questo è carino questo è carino bravo squiddy ma dai sta levitando no dai mozzard va da ritmo con la mia musica non con quella che mettono l'oro faccio prima no ecco vedi no e vedi a questo giro è andata a fanculo però a questo giro oro lo so lo so spero che anche il prossimo livello non sia un altro livello simile a questi due non sia un altro livello simile a tutti